Che albero è questo? È un tiglio, un albero bellissimo con tronco, rami e foglie. Eh già, ma mi sa che stai tralasciando metà pianta. Di cosa stai parlando? Ma dai, ci siamo sopra, le radici. Hai ragione, senza radici non ci sarebbe l'albero. Attraverso di loro le piante riescono ad assorbire acqua e nutrienti e le cellule delle radici ne controllano il processo. In più, la presenza di peli radicali permette una maggior area di assorbimento, così che la pianta riesca ad assorbire grandissime quantità d'acqua. Molti apici radicali fanno sì che la pianta cresca velocemente e che riesca a raggiungere aree ricche di acqua e nutrienti. Sì certo, ma ti stai dimenticando qualcosa. Un'altra funzione delle radici è quella di ancorare la pianta al terreno. Senza ancoraggio questo tiglio non sarebbe resistito a lungo. Soffiando contro la chioma, il vento provoca forti spinte e trazioni a livello delle radici. Hai ragione. Infatti, quando abbiamo venti forti, i primi alberi ad essere rovesciati sono sempre quelli con radici poco profonde. Esatto. Tornando alle funzioni delle radici, alcune piante le utilizzano anche con funzione di riserva e, ovviamente, funzionano come sistema di trasporto. Quindi, come puoi vedere, anche se sono nascoste dal suolo, mai dimenticarsi delle radici. Grazie.